L'ultimo tema riguarda la costruzione del portafoglio. È una domanda fondamentale che ci dobbiamo fare quando investiamo. La domanda fondamentale che dobbiamo farci quando investiamo è quanto siamo remunerati per detenere un rischio di portafoglio. Vi faccio qui vedere il rendimento implicito, quindi non è più il rendimento ex post che vi ho fatto vedere all'inizio, ma il rendimento implicito di quel portafoglio bilanciato semplice che avete visto nella prima pagina. 60% Global Aggregate, 30% MCI World, 5% AID, 5% Debito Emergente in Arcanacy. Questo è il rendimento implicito, una specie di stima di rendimento atteso di lungo periodo di questo portafoglio. E quello che si vede è che in questo momento, questo rendimento implicito, toccato un punto di minimo in realtà verso maggio dello scorso anno, è molto basso. Siamo poco sopra il 3%, attorno al 3,5%. Visto così, uno direbbe non siamo per nulla remunerati per detenere questo tipo di rischio. Abbiamo la più bassa remunerazione attesa della storia. La verità è che la cosa diventa un po' diversa se invece della linea blu noi guardiamo la linea rossa. Che cos'è la linea rossa? La linea rossa è esattamente la linea blu, cioè il rendimento implicito di questo portafoglio bilanciato meno il rendimento del cash. E quello che si nota è che chiaramente grazie all'azione delle banche centrali oggi questi due rendimenti sono praticamente allineati, anzi qui abbiamo una cosa che non pensavo avrei mai visto nella mia vita, che è il rendimento di un portafoglio rispetto al cash è superiore al rendimento del portafoglio in assoluto. Quando guardiamo questa cosa, la conclusione a cui noi arriviamo è la seguente. Da un lato non siamo del tutto remunerati per detenere il rischio direzionale. Dall'altro lato, se non pensiamo che i tassi di interesse a breve termine salgano e salgano rapidamente, in realtà la remunerazione rispetto al cash è decente. E la conclusione a cui noi arriviamo, ovviamente questa è la volatilità di quel portafoglio che abbiamo visto prima, la volatilità di questo portafoglio sta aumentando, la conclusione a cui noi arriviamo in realtà è che siamo in una fase del ciclo dei mercati in cui è opportuno bilanciare la visione che ci viene dal rendimento assoluto del portafoglio tradizionale con il rendimento relativo del portafoglio tradizionale. E quindi in qualche modo nella costruzione del portafoglio dobbiamo mettere dei paracadute che tengano conto del fatto che il puro rendimento del portafoglio direzionale è molto basso. E questi paracadute per noi, ovviamente il paracadute per Antonio Masi è il cash, e oggettivamente chi non avrebbe voluto avere parecchio cash nel corso delle ultime settimane dei mercati. Però il cash, a mio avviso, ha senso strutturalmente in portafoglio nella misura in cui uno crede che lo scenario sull'economia globale sia molto negativo. Se uno non crede che questo scenario sarà così probabile, la salvaguardia che io vorrei mettere in portafoglio sono strategie di investimento che hanno rendimenti attesi non dissimili da quelli che vedete rappresentati qua, che non sono molto alti. Rendimenti attesi del 3,5% sono quelli ottenibili oggi da un portafoglio bilanciato, non si può ottenere di più. Però cercare di unire strategie che investono, come dire, che hanno obiettivi di rendimento non dissimili da questo 3,5% ottenibile dalle strategie tradizionali, ma che non siano correlate con esse. E qui ho rappresentato, dal dicembre 2012, l'andamento di questo portafoglio, chiamiamolo così semplice, portafoglio tradizionale, con la linea blu, che non è altro che una equiponderazione delle nostre strategie long-short equity. Quindi le abbiamo comprate tutte, equiponderate, tutte quelle che sono comprabili, quindi non abbiamo messo strategie chiuse, quindi non fondi che non si possono comprare. E quello che si nota è che la combinazione di queste due cose, secondo noi, genera quel livello di diversificazione nel portafoglio che è appropriato avere a questo stadio del ciclo dei mercati, anche se uno non crede che da qui i mercati scenderanno ancora molto. Vedete che il beta di questo portafoglio blu rispetto al portafoglio tradizionale, quindi la sensitività è molto bassa, attorno allo 0,10, ha una correlazione molto contenuta e ovviamente è strutturalmente meno rischioso questo tipo di portafoglio, quindi tendenzialmente non è che non scende mai, non esiste un investimento che non scende mai. ha dei drawdown, però vedete che il periodo di drawdown di questo portafoglio non coincide con il periodo di drawdown del portafoglio tradizionale che ovviamente non casualmente è stato proprio nelle prime due settimane dell'anno. Quindi secondo noi la conclusione è che dobbiamo continuare, chi magari mi ha visto già in altre presentazioni ma avrà già sentito dire queste cose, ma nonostante la discesa dei mercati delle ultime tre settimane il messaggio che noi portiamo è sempre che dobbiamo continuare a bilanciare l'esposizione ad asset rischiosi con strategie di investimento meno esposte alla direzionalità dei mercati. Perché? Perché per portafogli concentrati sulle asset class tradizionali hanno sì rendimenti attesi decenti rispetto al cash, ma bassi in assoluto, e un'allocazione completa alle asset class direzionali è secondo noi inappropriata per questo stadio del ciclo economico e del ciclo dei mercati. Tatticamente ci possiamo muovere attorno a questa visione, quindi se i mercati scendono magari ancora un pochino dai livelli attuali potremmo allocare di più a strategie direzionali, un po' meno a strategie non direzionali, ma direi che strutturalmente il modo con cui affronteremo i mercati nei prossimi anni sarà bilanciando queste due componenti dei portafogli. La considerazione che faccio dal punto di vista più tattico è che la volatilità degli ultimi mesi ha chiaramente ripristinato un po' di valore su qualche asset class direzionale. Penso agli AILD globali e penso alle azioni europee che secondo noi stanno subendo in questo momento una punizione eccessiva rispetto alla qualità dei fondamentali. Quali sono i temi di investimento da inserire in portafoglio? Questa è una cosa che noi produciamo ogni mese e la mettiamo alla fine dell'outlook che faccio sui mercati, quindi è disponibile sul nostro sito. I temi di investimento per noi sono un tema di generazione di reddito in modo diversificato, 30%, un tema di crescita attraverso le azioni, azionario Giappone, azionario ASA ex Japan, quindi l'Asia è l'area che noi preferiamo e le azioni europee. È un tema di diversificazione che in questo momento pesa quasi il 50% nel portafoglio, che è la componente principale che potrebbe muoversi nel corso del tempo e che oggi è bilanciato tra strategie long-short, obbligazionario on constraint sui paesi emergenti e obbligazionario on constraint globale. Con questo io ho concluso, eccezionalmente all'interno dei tempi, e penso di poter lasciare la parola a Luca Giorgio. Grazie a tutti. Bravo Bruno, perfetto. In tempo vi ricordo che tutti i mesi trovate il portafoglio di Bruno sul nostro sito. È disponibile nella parte di mercato, all'interno dei video trovate gli Aisin e i nomi dei comparti, quindi aggiornato, potete anche trovare lo storico del portafoglio. E poi vi ricordo anche qua una novità del nostro sito, abbiamo appena inserito una componente, una parte del sito, per fare portafogli e per gestire i portafogli, soprattutto per capire il rischio dei portafogli, grazie a una partnership come Ornistar. Ne parleremo approfonditamente durante il prossimo Roshow. Però fondamentalmente voi adesso, entrando nel nostro sito, potete caricare qualsiasi vostro portafoglio, anche con prodotti terzi, anche con ETF, qualsiasi strumento quotabile in Italia del mondo gestito, e vi verrà dato un look through, quindi un'analisi del portafoglio complessivo, quindi mettiamo che avete 10-15 fondi, vi verrà messo la composizione equity, fixed income, la parte alternativi, vi verrà messa la parte geografica, i primi 10 titoli per stile, per capitalizzazione, potete fare analisi tra portafogli comparabili, quindi magari un portafoglio di un cliente, ne volete costruire uno, potete vedere le differenze, potete fare analisi sui fondi, davvero è una partnership per me importantissima, l'abbiamo annunciata al nostro evento di gennaio due settimane fa, già tantissimi di voi la stanno utilizzando, è all'interno del nostro sito, quindi se siete già registrati, basta entrare tool di Morningstar e potete costruire il vostro portafoglio, potete salvarlo e potete anche creare un PDF con il portafoglio che avete generato, quindi guardatelo, sicuramente è molto interessante. Bene, ma torniamo alla presentazione, torniamo a quello che è un po' il motivo che Bruno ci ha raccontato, per cui oggi bisogna andare sugli alternativi. Sicuramente abbiamo visto la volatità in aumento, le correlazioni tra l'asset class sono sicuramente in aumento e i rendimenti sono molto bassi, quindi questo l'abbiamo appena visto con Bruno. Qual è il tema fondamentale? Il tema fondamentale è che soprattutto in Italia, nel corso degli ultimi 10-15 anni, il cliente privato italiano ha avuto con semplicità nel suo portafoglio diversificazione, protezione e rendimento, investendo semplicemente negli strumenti obbligazionari. Quindi il vero problema che c'è oggi nel costruire un portafoglio è che il cliente italiano, magari ha comprato bene nel 2011 il BTP e altri strumenti obbligazionari, in realtà in passato non aveva granché bisogno di comprare strumenti alternativi, perché aveva un portafoglio che il 70-75% era fixed income, il fixed income diversificava, soprattutto rispetto all'equity, forniva protezione nei momenti di difficoltà e soprattutto generava rendimento. Quindi un cliente italiano era abbastanza tranquillo, soddisfatto, aveva magari la componente equity e siete riusciti voi come categoria sicuramente a fargli comprare più equity e ad aumentare le performance dei suoi portafogli. Ma in realtà non sentiva la necessità di andare troppo né sull'equity né su altri strumenti. Ecco, il vero problema è che oggi, anzi non oggi, direi dopo il 19 di maggio del 2013, dopo che Bernanke annunciò il tapering e quindi l'uscita dal programma di Comunitivision, che poi sappiamo essere stata ritardata, ma in realtà è da quel momento che il fixed income non è più servito, o perlomeno non ha più avuto quella funzione di protezione. Vi ricordate, nel 2013 è stato un anno in cui il fixed income ha perso, soprattutto la parte core, ha iniziato a perdere nei mesi di maggio e giugno, poi è andato giù la parte emergente, poi è andato giù l'equity. E quindi un anno in cui le correlazioni erano praticamente, non dico uno, ma molto alte tra equity e fixed income. E in quel momento i portafogli hanno iniziato a vacillare. Cioè un portafoglio costruito in maniera canonica dall'emissore italiano 75-25 ha perso nel giro di pochi mesi anche il 5, l'8, il 10%. E da quel momento il fixed income ha iniziato ad avere meno quella facoltà di proteggere oppure di generare rendimento. Perché il tema qual è? Che oggi io posso trovare rendimento nel fixed income, ma devo andare a aumentare il rischio. Compro yield, compro debito emergente. E direi che un po' la moda, l'anno scorso è stato l'anno dei multi-asset, 32 miliardi di raccolta in Italia di fondi multi-asset. Allora, è ovvio che se noi facciamo un patto e diciamo, va bene, un multi-asset income è costruito per generare un'accedola del 5% su 4-5 anni. È ovvio che io devo andare a comprare, per forza per generare il 5%, devo andare a comprare il rischio. Ed è ovvio che quando c'è una fase di rischio che aumenta come da inizio anno, ma come agosto, perché agosto è stato molto più difficile come volatilità rispetto, se vediamo fino agosto, inizio settembre, rispetto ad oggi, se guardo quegli strumenti, molti sono sotto dell'8, del 10, del 12%. Allora, ovvio che se io voglio rendimento, oggi devo comprare il rischio. Se voglio rendimento nel fixed income, devo comprare il rischio. Stesso rischio. Quindi un portafoglio che una volta era bilanciato o magari addirittura era spostato verso il controllo del rischio con un 75% fixed income, 25% equiti, oggi potrebbe non essere più sufficientemente diversificato. E non potrebbe non avere più delle protezioni in caso come questo, in cui aumenta la volatilità. Quindi nascono e cresce la voglia e soprattutto l'idea di inserire in portafoglio soluzioni alternative. Allora, facciamo una premessa. Direi che in Italia ci siamo già passati nel 2008 per questo. Le soluzioni alternative non sono la soluzione a tutti i mali. Non è un prodotto che noi compriamo, mettiamo nel portafoglio e quando le cose vanno bene è lungo, quando vanno male è corto, quando c'è un mercato laterale prende i relative value, ci piacerebbe, come sempre. In realtà è difficile trovare una soluzione di questo tipo, però possono aiutare a creare diversificazione. Ovvio che io sto parlando di strategie alternative in asset class, quindi sono strategie, diciamo, non tradizionali, in asset class tradizionali. Quindi vado long short sull'equity, sul fixed income, però conosco cosa sto comprando. Discorso diverso dalle asset class alternative, che in questo caso invece sono, per chi ha un patrimonio molto più importante, possono andare a comprare commodities, real estate, infrastructure, cose non quotate, private equity, quindi due discorsi diversi. Quindi noi parleremo di strategie alternative liquide, quindi stiamo parlando comunque di strategie non tradizionali, che lavorano in asset class tradizionali. Ovvio che la normativa ci ha aiutato, dal 2009, Usits sicuramente ha permesso, Usits 4 ha permesso di inserire strumenti derivati nei portafogli, perché per fare un long short sull'equity, ma anche sul fixed income, per comprare CDS, devo avere la possibilità di farlo nei portafogli, e oggi possiamo farlo. Quella è la grande differenza, perché sento molti clienti privati spaventati dagli edge, da quello che erano gli edge. Noi arriviamo in un momento in cui la liquidabilità dell'investimento diventerà cruciale. Ovvio che noi parliamo di prodotti che sono quotati giornalmente, SICA blussemburghesi, trasparenti come prezzo, quindi è un altro mondo, simile magari come idea di diversificazione, ma è completamente un altro mondo rispetto a quello degli edge. Sicuramente molto più interessante, e anche con 2000 euro si può oggi comprare uno strumento alternativo liquido. Tipicamente, quando parliamo di alternativi, tutti pensano a questo, tutti pensano a global long short, perché è quello che va di più, e quello che è più presente nei portafogli. Quindi vuol dire fondamentalmente fare una scommessa relativamente su due titoli, due paesi, due obbligazioni, due missioni. Quindi pensare che comunque in un certo contesto vada meglio uno rispetto all'altro. Quindi non importa cosa fanno in assoluto, ma se sono bravo a capire chi fa meglio, anche se entrambi perdono, riesco a generare valore. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Ecco, direi che gli alternativi sono molto altro. Quindi questa è la strategia più diffusa, però sicuramente gli alternativi sono altri. Soprattutto è interessante capire il modo in cui noi gestiamo gli strumenti alternativi. E qua faccio una promessa su come è cambiato il mondo e come noi cerchiamo di anticipare i trend sui mercati a livello di titoli. La tecnologia ha cambiato il modo di vivere il mondo. Tutti noi oggi con l'Apple Watch, con l'iPhone, cose che non pensavamo di avere un localizzatore fino a dieci anni fa, di essere traccati in ogni istante dove siamo, quello che facciamo, le nostre abitudini, quello che mangiamo. Ormai tracchiamo quanto corriamo, quanto ci muoviamo. Qualsiasi cosa è su un iPhone, è su un Samsung, ma in realtà è disponibile come informazione. Perché tutto quello che noi facciamo in realtà è disponibile per gli altri che vogliono capire i trend. E quindi da Facebook a Twitter, così come LinkedIn. Quindi a noi sembra fantastico, lo è, capire in ogni momento cosa fa la comunità, cosa fanno le altre persone che hanno i nostri stessi interessi. In realtà c'è qualcuno che usa questi dati per capire le nostre abitudini, per interpretarle, per proporci qualcosa. Penso di non dire niente di strano, però sicuramente qualche anno fa non so quanti avrebbero pensato di essere localizzati in qualsiasi momento dove siamo, quello che facciamo. Io recentemente ho scoperto delle funzioni sull'iPhone, sulla privacy, che ti dicono praticamente dove sei stato durante gli ultimi, forse sono sei mesi, con anche il tempo, in ognuno dei vostri telefoni, non so Samsung, ma con anche il tempo in cui vi siete fermati in un certo bar, in un caffè, tutto memorizzato e rimane tutto in memoria. Quindi il tragitto che avete fatto è tutto qua sopra, no? E' una cosa che obiettivamente non ci dà fastidio perché siamo abituati, però è sicuramente nuova rispetto al passato. Ecco, si può disattivare comunque, entrati in privacy, si può disattivare, perché ha qualcosa da nascondere. No, è uno scherzo, ma sicuramente è un modo di approcciare il mercato diverso rispetto al passato. Considerate che a livello di dati che sono presenti sul mercato, se guardiamo old style, quindi il vecchio modo di capire e di individuare i trend delle azioni, si prendevano i bilanci. Se mettiamo insieme gli ultimi due anni tutti i bilanci delle società quotate, più o meno sono 140 gigabyte. Se li mettiamo insieme, fanno più o meno come grandezza quella di un campo da tennis. Quindi è l'idea delle analisi che dobbiamo fare per i dati base. Una volta si analizzavano i bilanci. Ecco, se andiamo ad aggiungere il report dei broker, quindi delle società, delle banche d'affari che fanno report su acquistare, comprare sulle società, a questo punto da un campo da tennis andiamo a un campo da calcio, quindi aumentano le informazioni. Da 140 giga andiamo a circa 5.000 giga. Se andiamo ad aumentare con i tick data, andiamo ad analizzare le singole quotazioni, quindi l'analisi dei trend, le singole quotazioni dei titoli, metto dentro anche tutti i bilanci, metto dentro anche tutte le analisi delle banche d'affari andiamo a circa 100.000 giga, più o meno. Ecco, gli ultimi due anni. Se vado a prendere quello che Google produce in un giorno di informazioni, ci vuole circa la città di New York, per mettere tutte queste informazioni. Sono circa 20.000 giga. Allora, ovvio che io per analizzare un bilancio ho più o meno capito, posso prendere una persona, posso prendere un sistema che prende le informazioni, le analizza, prendo i price earning, i dati e va bene. Metto dentro il report delle società, è un po' più difficile, ma posso farlo. Ma quando devo analizzare i dati che produce Google in un giorno, come faccio a capire, come faccio a utilizzare questa fonte di informazioni? Google, dicevo prima nella mia introduzione, quindi Google ha cambiato il modo di gestire, perché ci dà tantissime informazioni, come BlackRock a San Francisco, perché è ovvio che è lì che ci sono, è lì che c'è la base del nostro cervello quantitativo per analizzare i dati. Se devo analizzare tutto quello che mi dice Google in un solo giorno, non mi basta più avere le persone che guardano, che guardano i dati, guardano i bilanci. Però vedremo tra poco perché potrebbe interessarmi analizzare Google e quello che le persone cercano. Poi il fatto che Google sia arrivata a una capitalizzazione più grande di Apple non è certo solo per la ricerca. C'è dentro anche YouTube, c'è dentro una serie di informazioni che Google comunque fa, ma sicuramente la ricerca è il primo modo e non è la pubblicità che io metto su Google il vantaggio, ma è la vendita che Google fa delle informazioni in maniera molto base. Quindi, se vado a vedere, cambia il modo di avere accesso alle informazioni, però attenzione perché troppe informazioni rischiano di essere un problema, rischia di essere pericoloso. Io settimana scorsa sono rimasto sconvolto su Twitter da questa informazione che ho letto, che mi ha fatto riflettere, perché c'era questo articolo che diceva nel corso del 2015 sono state scattate più foto che dal periodo della nascita della macchina fotografica che era il 1839 fino al 2014. Cioè, in 180 anni sono state scattate meno foto che nel corso dell'ultimo anno. Perché? È ovvio, perché abbiamo messo qua un iPhone 6, un Samsung che ormai le foto le facciamo in qualsiasi istante che rappresentano la nostra giornata. Io ho visto l'altro giorno c'è l'applicazione Runtastic che quando corri e finisci di correre ti dice fai una foto per vedere come stai quando hai finito di correre. in realtà, ormai la fotografia ogni giorno facciamo foto a tutti noi, ce le mandiamo e le condividiamo. Ecco, in realtà, come faccio a analizzare tutti questi dati? Perché troppe informazioni sono nessuna informazione. Quindi, bisogna trovare una chiave di lettura. E devo dire, qua ho aggiunto adesso, mi mostrerò una foto che personalmente mi è piaciuta molto perché poi la tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere. in realtà però non dobbiamo troppo andare incontro alla tecnologia, non dobbiamo dimenticarci di apprezzare le cose normali, le cose naturali. Ora ho visto questa foto, magari qualcuno di voi l'ha già vista e mi ha fatto davvero anche questa riflettere tanto. Qua si vede un evento, onestamente non ho capo, ho cercato, ho provato a capire che cosa fosse questo evento su internet ma non ci ho spiegato, però dice, vedete tutte le persone che guardano il telefonino e fanno la foto a questa cosa, dice, ovviamente catturare il momento sul tuo smartphone e quindi fare la foto non sarà mai così buono, non sarà mai così naturale come viverti il momento. Tutte le persone che sono nella foto tranne la signora anziana, abbastanza anziana che è l'unica che non ha in mano un telefono si sta godendo l'evento. Tutti gli altri, ce n'è uno che addirittura non sta guardando neanche più l'evento perché l'ha già mandato lo sta mandando, le altre lo stanno facendo quindi non guardano neanche quello che vedono, non so se capita anche a voi ma guardano nel loro telefono. Quindi ho davanti a me magari un attore famoso, un cantante, una partita di calcio, qualsiasi cosa io lo vedo qua dentro quando magari ce l'ho a cinque metri. Ecco, quindi non dimentichiamoci che forse la bontà delle cose però questo è un più un ricordo, un rimando per noi che la tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere ma non può essere tutto. Quindi godiamoci i momenti e cerchiamo però di mettere anche un senso a tutti questi dati e queste informazioni. Quindi come lavoriamo? Cosa fa Blackrow per cercare di utilizzare questi dati? Prendo spunti da una presentazione che ha fatto Raffaele Savi che tra l'altro è un romano, una persona di Roma che è il responsabile globale del nostro Scientific Active Equity Team che è un co-ed del Global Equity di Blackrock da Roma è andato a Milano poi è andato a Londra e ora è a San Francisco ed è la persona che utilizza questi dati soprattutto che ha costruito l'infrastruttura penso che sia uno degli italiani più importanti di Blackrock al mondo è un romano che è venuto due settimane fa al nostro evento di Milano e mi diceva sai tutti pensano a Google dice sì Google è una delle cose che noi usiamo quindi cerchere di capire cosa cerca la gente per capire i trend sulle vendite adesso vi farò un esempio concreto però diceva sai c'è anche Amazon banalmente come Expedia quindi viaggi vedere cosa compri ma così come vedere Facebook, Twitter le abitudini quindi cosa posti cosa sei scritto quindi sicuramente informazioni che ci servono per gestire l'andamento delle società adesso vi farò appunto un esempio concreto per capire quindi quelli che sono i comportamenti degli individui ad esempio partiamo da mi diceva che questo forse è difficile interpretare però è una cosa che ha cambiato tantissimo la percezione della vita delle aziende una volta quando si doveva analizzare le aziende la domanda che ci facevamo era capire qual era il giudizio delle persone che lavorano nelle aziende degli impiegati cosa pensano gli impiegati sul proprio datore di lavoro sulla società ed era un'indicazione per capire se stava andando bene o meno bene quindi se c'era un buon clima tipicamente performavano meglio i titoli di queste aziende ecco lui dice da quando è nato Glassdoor che non so se qualcuno di voi lo conosce in Italia io lo conoscevo poco sono andato a sbirciare però ultimamente per noi è molto più semplice perché una volta noi dovevamo fare dei questionari facevamo questa società di consulenza che facevano di sondaggi chiamavano oppure andavano in azienda dovevi compilare c'erano dei diciamo dei benefit per chi lo faceva ma era complicato era lungo veniva fatto ogni 3-4 anni quindi era difficile poi su internet hanno costruito questo portale dove ognuno va e dà il parere sull'azienda è pubblico si dà un parere a livello del tuo manager gli strumenti che dà la tua azienda quindi cose base ecco noi utilizziamo questo e si è trovato una correlazione del 92% tra la performance quando c'è rating da 4 a 5 e la performance nei 6 mesi successivi cioè hanno trovato una correlazione tra quando viene retato perché ogni impiegato retta la sua azienda quindi quando viene dato un rating molto alto tipicamente le cose vanno bene quindi questo è un modo che abbiamo per gestire e per utilizzare la tecnologia oppure un'altra cosa molto bella è quella sui bilanci quando viene portata la trimestrale hanno individuato parole positive e parole negative parole positive verdi parole negative rosse vengono messe per individuare un trend quindi ogni volta che una non so IBM una volta che una società Apple pubblica la trimestrale vengono contate messe su un grafico le parole positive e le parole negative esce un grafico è da un idea di un trend qua stanno diminuendo magari stanno aumentando quelle rosse però stanno diminuendo quelle verdi quindi è da un idea del trend e rispecchia anche l'andamento del titolo quindi anche questa è una cosa interessante a occhio nudo da vedere oppure a me questa piace tantissimo devo dire quella che ha trovato Raffaele qualche anno fa lui dice ma se dovesse andare a vedere a prevedere le vendite di auto lui diceva ma perché non proviamo a capire invece che aspettare i dati che arrivano dalle società in base a quante persone cercano su Google quel modello di auto magari che sta uscendo e cerchiamo di andare a capire qual è il trend delle vendite dei sei mesi successivi è stato uno dei progetti fantastici dove hanno fatto una tesi all'inizio e poi hanno sviluppato tutto un modello di analisi quindi sull'andamento della vendita delle auto in questo caso quella che vedete è quella con la blu con la blu scura quindi a diminuzione ma possiamo vederlo anche forse qua in questo momento ecco c'è una slide anche più interessante qua ci sono alcuni vari beni di consumo ma fondamentalmente quello che è stato fatto è cercare di andare a prevedere la vendita di auto in base a quello che era la ricerca di quel modello di auto su Google e ha funzionato cioè è una cosa svalorizzativa perché è anticipato addirittura è stato uno strumento ed è uno strumento utile per le stesse case automobilistiche cioè prima aspettavamo la trimestrale adesso Google anticipa la trimestrale cioè è una cosa ovviamente qual è il tema che quando si scoprono queste cose molto interessanti nel giro di poco girano quindi ovviamente poi non è più un vantaggio informativo se ce l'hanno tutti troppa informazione nessuna informazione in realtà non riesco a prevedere perché il titolo già incorpora la diminuzione delle vendite perché la gente cerca meno quel modello quindi ovvio che bisogna continuare a evolvere e a questo punto vi dico mi raccontava Raffaele che alla fine oggi come BlackRock una volta noi c'era la competizione per i talenti quindi si cercava di prendere la persona che magari vuole andare in Goldman o magari vuole andare in JP Morgan magari vieni in BlackRock quindi siamo lì che lottiamo i talenti mi diceva adesso questo non c'è più adesso sei un grande talento magari vuole andare in Google o in Apple o venire in BlackRock e questa cosa cambia anche l'approccio di BlackRock nella selezione dei talenti perché è ovvio che è un mondo completamente diverso se penso il responsabile globale uno dei responsabili globali di Aladin è un ragazzo che è un director io mi ritengo giovane ma lui ha 29 anni è un director di BlackRock responsabile globale ha 29 anni cioè quindi ovvio che questi sono strumenti nuovi che devono essere decodificati devono essere sicuramente utilizzati in maniera diversa ma possono dare informazioni ovviamente non possono sostituirsi all'essere umano questo è fondamentale apro una parentesi velocissima sul tema che oggi sento che inizia a emergere anche in Italia poi potremmo parlare ore quindi non è questa la sessione non è questo il caso però si parla molto dei robot advisor quindi che ha una paura che tutti noi abbiamo non l'avete solo voi l'abbiamo anche noi perché poi se le macchine sostituiscono l'essere umano siamo dove andiamo mi parlano anche a me di telesales invece che la parte commerciale li mettiamo magari in un hub chiamano poi voglio vedere i telesales o comunque le macchine quando la pancia fa male quando i mercati vanno giù del venti come tranquillizzano un cliente però al di là di questo sicuramente la tecnologia può essere utile quindi può essere utile e tutto quello che può essere fatto con la tecnologia e che non dà valore aggiunto verrà automatizzato senza dubbio nel senso che la tecnologia può aiutarci e va bene però non è da sola che può risolvere la situazione soprattutto quello che è l'emotività dei mercati e degli investimenti perché i mercati non sono semplici abbiamo visto con Bruno quindi oggi è complicato oggi un portafoglio direzionale è molto a rischio però tranquillizzare il cliente costruire un portafoglio ben diversificato ma soprattutto quando magari vede il mercato che fa meno 5 meno 6 meno 7 quando vede momenti veramente di difficoltà non basta non basta la tecnologia per tranquillizzare il cliente e per farlo rimanere investito quando magari vorrebbe vendere quindi in realtà la tecnologia è fondamentale ma non è l'unico strumento e anche per noi non è l'unico strumento che noi utilizziamo per costruire i portafogli quindi crediamo fortemente che il consulente il vostro ruolo sia fondamentale se guardiamo il mercato americano che sapete ci piace lo guardiamo sempre come BlackRock prima Mary Lynch per capire le evoluzioni quindi si è parlato tantissimo 4 anni fa di RoboAdvisor negli Stati Uniti ed è un buon successo hanno raccolto 30 miliardi in 4 anni niente niente sono malati di tecnologia perché? perché non si sostituisce comunque al consulente quindi può essere un aiuto ma sicuramente non può sostituirsi quindi questo fa ben pensare assolutamente su quello che sarà il futuro anche nel mercato italiano e penso che il vostro ruolo sia fondamentale diventerà sempre di più però dicevo la tecnologia perché la tecnologia ha bisogno dell'aiuto perché sì è vero che un insieme di codici può dare un messaggio io ho messo qua un'immagine con un codice binario e si vede una persona però in realtà quello che a me è piaciuto è che non basta da solo ma con l'aiuto del cervello con l'aiuto di qualcuno che muove magari la possiamo spostare la possiamo far vivere la possiamo far camminare possiamo cambiare quella che è l'impressione delle cose quindi la tecnologia è fondamentale quindi non possiamo dire di no non possiamo nasconderci non possiamo scappare dalla tecnologia perché ci mangia altrimenti però dobbiamo utilizzarla nel modo giusto quindi dobbiamo utilizzarla per prevedere dei trend per gestire i mercati per dare un servizio al cliente perché penso che ognuno di noi oggi magari ha una app della sua banca che magari gli permette magari di fare delle cose di vedere un conto che prima magari doveva andare su internet o andare in banca quindi è sicuramente una cosa utile però non si istituisce sicuramente né agli investimenti né tantomeno alla consulenza assolutamente quindi quello che abbiamo fatto come BlackRock è dire bene costruiamo una gamma di alternativi non ne costruiamo uno ma costruiamo una SICAV la conoscete bene è la BSF è una SICAV da 15 miliardi molti di voi la sottoscrivono e a diverso tempo che la conoscete perché? perché qua dentro ci sono anche i nostri strumenti fixing a man constraint quindi da FIS a FIGO quindi strumenti che conoscete che avete utilizzato in passato che state utilizzando in questo momento e diciamo che era l'inizio degli alternativi perché FIS o FIGO sono due strumenti obbligazionari che investono in asset class obbligazionari che però fanno relative value vanno corti possono avere la duration negativa quindi sono un'evoluzione di prodotti tradizionali obbligazionari e li trovate qua dentro e li conoscete però recentemente abbiamo aggiunto ad esempio un event driven uno strumento questo che lavora sulle diciamo assimetrie che ci sono sul mercato dovuto all'operazione di finanza straordinaria o comunque all'operazione su diffusione tra le società è un fondo che da inizio anno fa circa più 1% e per il anno scorso fa molto bene quindi è uno strumento che dipende da qualcos'altro che gli asset class direzionali long short quindi abbiamo long short equity globale abbiamo American diversified equity absolute return abbiamo European diversified equity absolute return abbiamo European absolute return quindi tutti strumenti che insieme possono aiutare a diversificare il portafoglio non ce n'è uno in particolare che o perlomeno ne possiamo parlare di alcuni di questi ma non ce n'è uno che li racchiude non ce n'è uno che risolve tutti i problemi non ce n'è uno posso darvi un consiglio che dobbiate utilizzare da solo utilizzateli insieme cioè compratene comunque ma non solo dei nostri di altre società penso che il vantaggio degli alternativi sia che sono diversificazione però hanno un rischio gestore e il rischio gestore si diversifica comprandone tanti perché altrimenti il rischio idiosincratico del portafoglio aumenta troppo e torniamo vittime degli hedge fund del 2008 quindi il consiglio avete sentito Bruno oggi una componente del portafoglio 15 anche 20% poi dipende se qua dentro mettiamo anche il fixing common constraint se non lo mettiamo è un po' più bassa però sicuramente deve essere investito in strumenti alternativi e come a volte dice Bruno la ruba o Bruno questa frase ma mi è sempre piaciuta lui dice io non so dirvi con esattezza quale sarà la performance migliore di questi strumenti nel corso dei prossimi 6 mesi 9 mesi un anno sicuramente sono le strategie date ai gestori migliori di BlackRock però non so dirvi perché non c'è correlazione con l'andamento dei mercati e la performance del singolo gestore quindi è il brutto ma anche il buono nel senso che alla fine è il modo di diversificare e di non essere correlati ai tradizionali asset class vi annuncio che tra pochissimo perché uno partirà settimana prossima e uno fra tre settimane lanceremo un fondo un BSF Style Advantage che sarà un fondo di Smart Vita e anche qua secondo me il mercato italiano è pronto per questo tipo di soluzioni gli Smart Vita sono ETF multifattoriali quindi una cosa interessante è perché lavora non sugli asset class ma sui fattori di rischio è un fondo che la strategia di iniziano sta facendo il 2,5% mi piace come idea di diversificazione partirà fra due settimane e poi lancieremo un multi manager Absolute Return quindi non solo strumenti BlackRock ma lo lancieremo anche con strumenti di terzi boutique più che altro americane comunque seguiteci perché saranno sempre in aggiornamento e trovate all'interno del sacchetto che vi abbiamo dato tra l'altro una brochure sugli strumenti alternativi quindi ripeto li conoscete perché non voglio dilungarmi su queste strategie che conoscete quindi da Figo Fix Income Strategies questo magari spendo due parole mancano ancora due minuti riesco a spendere due parole su questo che secondo noi è una buona idea in questo momento in cui il cliente è investito ancora nel debito emergente ma abbiamo il dilemma di hard currency o local currency e magari ci bisogna un po' più di flessibilità scusate in un momento in cui aumenta la volatilità questo strumento ha un benchmark che è 50% hard currency 50% local currency fa relative value così come lo fa Figo e come lo fa Fix Income Strategies quindi è l'approccio di BlackRock del relative value quindi l'abbiamo fatto globale l'abbiamo fatto obbligazionario europeo ora lo facciamo obbligazionario paesi emergenti quindi è uno strumento che vi consiglio di guardare è nato circa da tre anni però è nato nel momento del tapering l'anno scorso ha fatto l'1,6 contro il mercato che comunque ha fatto meno 7 quindi ha fatto molto bene può essere inserito in portafogli come idea di diversificazione qua c'è un approccio un pochettino più direzionale ma comunque sul debito emergente l'altra novità lo sapete è European Select Strategies ne stiamo parlando tantissimo abbiamo fatto un row show a parlare solo di questo abbiamo fatto l'evento di gennaio a fine di gennaio solamente a parlare di questo strumento come focus principale Kreuzberger lo conoscete è venuto a Roma diverse volte è venuto anche a settembre qua a Roma a fare la sessione del nostro row show è un prodotto che abbiamo lanciato perché vogliamo entrare nella categoria dei bilanciati conservativi quindi BlackRock era un po' fuori da questo contesto avevamo Global Location avevamo GMI quindi cose comunque con rischio più alto questo è uno strumento che ha 75% fixed income 25% equity quindi una buona idea per chi vuole comunque avere un profilo di rischio basso ma vuole magari l'approccio un po' di equity per avere un rendimento un po' più alto Kreuzberger è una garanzia di successo a 18 miliardi di fondi euro short duration euro bond fisso euro corporate quindi lo conoscete bene Michael ecco quindi può essere un'idea per andare a costruire quei portafogli magari con un po' di equity non troppo però con un approccio comunque con un forte controllo del rischio e l'ultimo quindi chiudo è American Diversified Equity Absolute Return Fund gestito da Raffaele quindi è uno dei fondi che gestisce Raffaele Savi che è il nostro responsabile globale del Scientific Active Equity Team l'anno scorso questo fondo ha fatto circa l'11% anche questo è un long short sul mercato azionario americano da inizio anno sta facendo bene ripeto non è la soluzione a tutti i mali è uno dei tanti ci piace perché questo è sul mercato americano che è molto efficiente molto liquido lui lo conosce molto bene quindi quello che vi ho raccontato quindi guardare Google per vedere i trend per cercare di capire comunque su cosa investire lui lo utilizza in questa strategia quindi hanno costruito i modelli danno dei segnali poi costruiscono i portafogli quindi è un fondo da circa 450 milioni quindi per adesso sta crescendo bene non ci sono attualmente limiti di capacity mi spiace se molti nostri fondi a un certo punto dobbiamo chiuderli e devo dire che da commerciale è la cosa più triste che possa succedere quando hai un prodotto che performa ma devi chiudere però per tutelare i risparmiatori che sono investiti siamo obbligati a farlo quindi vi ricordo che quando lo chiudiamo non è che smettiamo di gestirlo chi ha investito rimane investito rimane la strategia però non possiamo più fare nuove sottoscrizioni è un tema che c'è su FIS che sta crescendo molto spero di non arrivare a chiuderlo però è un tema su Eder abbiamo chiuso l'European l'abbiamo chiuso abbiamo chiuso diverse strategie in questi anni perché performano bene e arrivate a una certa capacity l'efficienza non è più mantenuta se arriva oltre una certa soglia perché rischia di non avere più le coperture quindi è una cosa comunque importante continuare a evolvere costruire strategie per darvi sempre nuove soluzioni io anch'io 18 secondi prima del previsto sono molto contento ho finito quindi grazie a tutti per l'attenzione rimango nello stand grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti